ciao ragazzi ho deciso di aprire questo canale youtube per condividere la mia passione e la mia esperienza nei viaggi in bicicletta circa tre anni fa un amico mi disse senti perché anziché utilizzare la bici solo per allenarci non proviamo ad avventurarci in un viaggio in bicicletta ed è andata così vi faccio vedere come sono partito allora siamo in coda al check in si devono praticamente hanno detto che ci mettono un'etichetta sulla bici non lo so vediamo ma chissà se arriviamo a catania e adesso vi faccio vedere come viaggiavo quando sono arrivato a destinazione ecco da questa foto si capisce bene l'inesperienza e si capisce anche bene che dovevo ripartire da zero dovevo ricominciare tutto da capo perché mi stavo inoltrando in un nuovo mondo infatti consiglio la visione del canale sia a chi sta iniziando a non andare in bici o vuole avventurarsi in una vacanza in bicicletta sia a chi utilizza già la bici da tanti anni ma non l'ha mai utilizzata per cicloturismo e quindi si può risparmiare un po degli inconvenienti che ho avuto io ci vediamo nei prossimi video credo che sia una grande opportunità anche perché il mondo del turismo secondo me a breve termine cambierà quindi cambierà anche il nostro modo di viaggiare e perché no avventurarci in un viaggio in bicicletta potrebbe essere una cosa molto bella e interessante ciao tutti ci vediamo perché ho un sacco di cose da dirvi ma ora ovviamente non ve le posso dire a presto ciao ciao